ah si vabbè dai vai fammi vedere che stai facendo questo è tolto fammi vedere che stai facendo rimontala perché quella va rimontata no gira eh ma lo vuoi montare o smontare no ma la devi rimontare stai girando bene continuare oggi no voglio girare così 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 no la stai girando no la stai montando la vuoi togliere? sì ma qui deve essere rimontato perché va via così ma Peppe la devi rimettere quella la vuoi rimettere te o la mette lui? no la voglio mettere mamma vedi mamma tocca grazie no la stai togliere ma adesso la faccia ma adesso la faccia mamma un'altra capito? un'altra dove vai con il tuo sgabbello? cielo il tuo innoo dai a mamma il giubbotto dai perché metti giubbotto per terra? no ma io ho messo mamma no no ma io ho messo ok volevo mandare a chi lo mandiamo che facciamo dire che sei bravo? no Peppe Peppe ah Peppe Peppe prendo te mochi guarda me guarda te guarda te ho cacciavite Peppe dammelo cacciavite dammelo dammelo ma hai raggiunto mi fa andare fuori mi fa andare fuori mi fa andare fuori mamma fa se ne sta venendo il pannello come? sta sotto sta attaccato sotto? se ne sono le altre sotto ok dai avvita adesso bravo avvitalo perché il pannello se ne sta venendo no no voglio vieni mamma voy a